ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come mai come quest'anno ballando con le stelle crea polemiche ne sa qualcosa mara venier che ha ospitato guillermo mariotto che con alberto matano in collegamento ha dato vita ad una vera e propria lite tanto da far fermare il programma cosa è successo tra i due volano stracci a domenica in nella parte in cui si è parlato delle dinamiche di ballando con le stelle particolarmente schietto l'intervento di alberto matano che si è collegato telefonicamente con lo studio per dire la sua sull'argomento senza mezzi termini il conduttore de la vita indiretta o ha attaccato la giuria dello show di milly carlucci guillermo mariotto tra gli ospiti del salotto della venier ha risposto dando dell'ipocrita matano non solo è più scoppiato un curioso caso relativo alle sigarette secondo lo stilista venezuelano il giornalista in più occasioni gli avrebbe chiesto delle sigarette la venier amica stretta di alberto è rimasta molto sorpresa dalla rivelazione una giuria che oscilla tra oroscopi e psicanalisi e che poi si divide e quando gli conviene è unita e quando qualcuno la spara grossa punta il dito contro l'altro insomma caro mariotto fatevi un esame di coscienza così matano ha risposto all'attacco lui sta tranquillo a casa mentre io sono qui e non si capisce ciò che dice è stata la replica di guillermo che è subito stato fermato dalla padrona di casa si capisce come mariotto poi quando non sa cosa rispondere dice che non si capisce casomai è mariotto che non si fa capire mai ha aggiunto matano sempre più agguerrito a questo punto lo stilista ha dato dell'ipocrita al conduttore de la vita indiretta lui è ipocrita dopo che mi attacca ballando mi dice andiamo a fumare fuori al balcone mara è rimasta sbalordita ma alberto non fuma sbalordito più mariotto ma mi scrocca le sigarette non te le darò più da oggi io lo conosco non fuma ha ribadito la venire non capacitandosi appena detto dal giudice matano ha cercato di sviare il discorso non chiarendo la vicenda sei davvero un falsone ha chiosato con la sua solita ironia al di là della questione delle sigarette resta la forte presa di posizione di matano nei confronti dell'intera giuria che da quando è iniziata la nuova edizione di ballando con le stelle è finita al centro delle polemiche il risvolto positivo è che il programma di milly carlucci si sta togliendo non poche soddisfazioni sul fronte dei dati auditel gli ascolti del programma infatti sono in grande crescita grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video